Festa della Repubblica, 2 giugno, una giornata importante per la nostra nazione, un 2 giugno particolare quest'anno, ancora nel pieno di questa emergenza, per fortuna in una situazione che si è calmata dal punto di vista epidemiologico, ma che ci vede ancora in prima linea in tante situazioni. Fondamentale direi quello che è successo. Tutti noi, tutte le nostre associazioni, i nostri volontari, i nostri dipendenti hanno risposto al meglio, individuando come i nostri nonni nuovi bisogni, nuove esigenze per far fronte ai bisogni delle nostre comunità. Davvero, tra l'altro, un grazie per la vicinanza che molti di voi hanno avuto rispetto ad alcuni attacchi ingiustificati che ho subito, anche per esempio alla luce di portare questa nostra maglia, che è un orgoglio per tutti noi, spero, per tutti gli amici di Ampas, un movimento importante che vuole il bene delle comunità, che vuole la cittadinanza attiva, che vuole il fatto di stare insieme, tutti, senza distinzioni, per il bene comune. Buon 2 giugno.